Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Infippi lì per lavori, due chilometri di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra in direzione Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra, con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada A11, sempre in Fippi lì, coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In A1 in direzione Roma, code tra Barberino di Mugello e Calenzano-Sosto Fiorentino, si è verificato un incidente tra due mezzi pesanti in galleria tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano verso Roma. Rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Muoversi in Toscana Info è un servizio e un collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!